no mi viene da ridere perché scommetto che ci sarà qualcuno magari anche nei commenti di questo video che scriverà o avrà voglia di scrivere che non sia divertito perché con allegri non ci si diverte secondo me qualcuno c'è anche in una partita così è capace di scrivere o pensare una cosa di questo genere giusto perché c'è un po di prevenzione non tanta ma un po di prevenzione allora non parliamo di juventus cesena nel senso che si parliamo di juventus cesena ma non juventus cesena la squadra messa assieme da allegri contro cesena perché chiaramente si è trattato di una partita in cui l'unico vero titolare che si è visto in campo è meccenni a quale tra l'altro allegri ha detto che ha urlato il gol che dovrà fare almeno 10 quest'anno l'anno scorso ne ha fatti ne ha realizzati sei se non vado errato tra campionato e champions no a coppa italia non ha mai segnato si è regalato quel gran gol di barcellona e tre giorni dopo tre giorni prima aveva segnato nel derby quindi praticamente nel giro di tre giorni insomma due soddisfazioni mica male per un giocatore della juventus al primo anno eppure statunitense vabbè per carità è nessuna prevenzione però sapete insomma diciamo che lì non c'è una grossa tradizione calcistica maschile femminile sì femminile sì sono stati battuti dopo un sacco di anni l'anzionale femminile è stata battuta alle olimpiadi dopo un sacco di anni però vabbè dalla svezia se non vado errato comunque chiuso la parentesi che riguarda meccenni no la cosa che mi è piaciuta adesso al di là di tutto la cosa che mi è piaciuta è che non sono stati convocati in tre tra cui fra botta e fagioli perché si è trattato di un provvedimento disciplinare ossia erano arrivati in ritardo non credo oggi forse della saluta di allenamento di ieri non lo so comunque per un ritardo non sono stati convocati per questa amichevole e per carità allegri non sarà l'unico ovviamente ad applicare questo tipo di regolamento anche perché il ritardo è l'affronto peggiore che possa fare un calciatore a meno che ovviamente non sia motivato da situazioni contingenti imprevedibili impreviste o comunicato ovviamente tempestivamente alla squadra ma il ritardo è considerata una gravissima infrazione perché è una sorta di mancanza di rispetto nei confronti del gruppo dello spogliatorio eccetera quindi voi sapete quanta stima ha per esempio allegri di lasciamo stare fra botta perché probabilmente tra l'altro andrà via dalla juventus quindi però questo non significa nulla ma sapete quanta stima ha allegri di fagioli in tempi diciamo non sospetti parlò di lui in maniera entusiasta o entusiastica e però la legge vale per tutti la legge sarà al ragazzino servirà ragazzino per crescere perché si cresce anche attraverso queste situazioni quindi era un ritardo evidentemente immotivato immotivato ed è giusto che per questo si è stati presi dei provvedimenti poi ha segnato devinter ha segnato questo saulè con deviazione va bene insomma ragazzi c'è poco da dedurre poco da trarre da questa da questa partita vi dico subito che sarà una partita probabilmente più significativa quella che potrete vedere esattamente tra una settimana io vi sto parlando di sabato e quindi sabato 31 alle 21 su italia 1 se volete aggiungerci un altro 1 fate pure sì nel giugo io 11 perché ci sarà scesni in porta e sarà monza juventus trofeo berlusconi che trasmetteremo in diretta appunto quindi probabilmente si spera di bala avrà recuperato dall'infortunio si spera naturalmente probabilmente ci sarà cristiano ronaldo magari come spettatore o in panchina non lo so ma non è da escludere visto che dovrebbe sbarcare domani a torino è già abbastanza allenato perché figurati se quello sta fermo comincerà probabilmente la continassa a lunedì io mi dico anche solo per immagine così perché non portarlo parlo di di bala e di ronaldo anche perché oggi ha parlato pure never l'avete sentito o l'avrete letto da qualche parte se non l'avete visto ne sentito ve lo dico io e ha affrontato naturalmente i due temi scottanti di calcio mercato di bala e ronaldo appunto quanto di bala ha detto siamo nei tempi per il rinnovo a breve incontreremo il procuratore quindi vera la notizia secondo la quale è atteso a torino john ranton ed è molto positivo sull'esito della trattativa insomma sul molto ottimista ecco sull'esito della trattativa e quindi insomma si va verso la conclusione dietro fine del resto insomma me l'avevo anche ma non solo io anche tanti miei colleghi che ritengo molto credibili da tempo vanno dicendo che insomma si va verso il buon esito della situazione ned ha ribadito che ronaldo resterà alla juventus su questo magari possiamo ancora un po' argomentare perché continuano ad arrivare a continuare ad arrivare notizie relative al fatto che mbappé vuole essere lasciato libero dal pari saint germain quindi comunque per dovere di cronaca per dovere professionale per curiosità umana io dico starò particolarmente attento alla questione mbappé cristiano ronaldo perché come sapete sono due cose estremamente collegate eventualmente anche collegate no ovvio ned ha parlato anche di chiellini appena tornerà dalle vacanze parleremo con lui parleremo con lui parlare è un verbo generico ovviamente ci mancherebbe che non parlassero lui e chiellini o chiellini e la juventus in generale dopo di che vedremo quale sarà la decisione presa vi posso dire che in questo momento il giocatore si aspettava magari qualcosa di più chiaro in tutta questa situazione detto questo non è sua intenzione fare casino alla juventus e ci mancherebbe altro lui non è il tipo che fa questo tipo questo questo genere di casini non li ha mai fatti e non li farà mai giorgio lo conosco abbastanza da questo punto di vista vi dico che non non succederà mai tutto questo poi ha tutto il diritto di non esserci rimasto benissimo di fronte al fatto che subito dopo l'europeo è stato lasciato partire per le vacanze non c'è stato almeno che io sappia un cenno per poter affrontare la questione ed eventualmente mettersi d'accordo successivamente quindi però parleranno anche qua vedremo seguiremo naturalmente la situazione se vogliamo essere ispirati all'ottimismo diciamo che si fa anche un po fatica a vedere chiellini giocare da un'altra parte perché io credo che ragazzi se non dovesse rinnovare la juventus lui comunque un anno ancora lo giocherà perché molto probabilmente ha capito che gestendosi in questo anno e mezzo può puntare ad entrare anche nel gruppo del prossimo mondiale ho detto entrare nel gruppo non dico pretendere di giocare le partite ma entrare nel gruppo e chiudere la carriera con un mondiale tra l'altro inedito come quello del Qatar lasciatemi dire assurdo come quello del Qatar perché si deve giocare l'inverno bloccare il campionato sarà un macello ragazzi sarà un macello ve lo dico sarà un macello la stagione non dico che rischia di essere falsata però sicuramente non sarà una stagione normale detto questo vabbè insomma diciamo che c'è stato il fascino del Qatar è fascino si chiama fascino si chiama fascino adesso vabbè tanto tutto ruota attorno lì e quindi aspettiamo insomma l'esito anche dell'incontro che ci sarà presumibilmente entro la prima settimana di agosto perché Chiellini come gli altri reduci dall'europeo dai finalisti dell'europeo quindi dei campioni d'europa tornerà a disposizione nella prima settimana di agosto e quindi vedremo come finirà quindi altro da aggiungere credo di no che ci sia un allegri carico mi sembra molto evidente che abbia una gran voglia di tornare in campo di tornare a vincere perché quello era il verbo che lo ha accompagnato per cinque anni lo ha fatto undici volte da allenatore della Juventus se vogliamo ha buttato lì anche il dato scaramatico perché anche nel 2014 aveva iniziato con un amichevole contro il Cesena allora si giocò al Manuzzi finì 0-0 e poi sapete insomma come va a finire quell'annata lì togliamo la finale di Berlino alla conclusione di quell'annata lì la Juventus aveva vinto Scudetto e Coppa Italia e diciamo che i buoni auspici ci sono se poi volete vederla dall'altra angolazione dell'angolazione europea allora diciamo pure che l'amichevole contro il Cesena può anche portare sfiga però insomma tutto questo verrà verificato al termine di questa stagione vi do appuntamento a domani con qualche news su Ronaldo vedremo se saremo in grado anche già di avere dei filmati relativi al suo sbarco a Caselle non si sa quando come dove cioè sì dove sì dovrebbe essere a Caselle perché in altri aeroporti non ce ne sono l'orario non si sa sapete che tutto quello che circonda Ronaldo è abbastanza ovattato se non vuole farsi beccare non si fa beccare certo che se uno va lì al mattino e va via per andare via la sera fino a quando non arriva Ronaldo prima o poi lo becca insomma col telefonino lo prende io non sarò lì naturalmente basta appuntamento al prossimo video iscrivetevi al canale mettete like si dice così no? iscrivetevi anche a quello di mio figlio servitemi sui social fate quello che volete ciao 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 al prossimo video ciao 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 ciao